eccomi qua ragazzi per commentare a caldo anche se ormai è un po sbollito la partita che ahimè ho visto questa sera tra italia e argentina investendo una serata davanti alla tv per vedere i nostri azzurri fare una figuraccia come poche io abbia mai visto nella mia vita è un 3 a 0 assolutamente senza appello noi non abbiamo fatto un tiro in porta in tutto il match l'argentina ne poteva fare 5 6 tranquillamente donnarumma ci ha salvato in diverse occasioni indecisione sul 2 a 0 a parte però stasera ho visto veramente due sport diversi l'argentina giocava a calcio spettacolo e non era se non abbiamo giocato sembrava più una partita di defaticamento delle fatiche del campionato delle coppe e non peccato perché questa era la prima partita dopo l'eliminazione con la macedonia purtroppo abbiamo steccato per l'ennesima volta tre sconfitte sulle ultime dieci partite quattro paregge tre vittorie abbiamo perso mondiale e finalissima nel giro di appunto delle ultime due partite attacco in attacco siamo veramente messi male ma messi 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 siamo veramente boh non so neanche come siamo a zero cioè purtroppo immobile anche infortunato ma velotti volà c'è già quest'anno ha fatto fatica e scamaca se non arrivano palloni e dura ora stessi sono in ansia sono attenderò di vedere quattro partiti di nation league nei prossimi giorni già sabato abbiamo la partita con la germania ma se questi sono i preamboli non ci aspetta niente di buono sempre forse azzurri ragazzi però bisogna svegliarsi e ecco e per mancini tutto lo staff c'era un tanto 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 lavoro da fare e anche per i club di serie a e bisogna rimboccarsi le maniche a livello generale e darsi una mossa grazie a tutti